Sono Stefano Rocchi, sono amministratore unico di Axos Italia. Axos Italia è un'azienda che è nata circa 33 anni fa per volere del socio fondatore che era Giancarlo Delicolli che purtroppo è venuto a mancare circa tre anni fa. Axos da sempre si occupa delle scuole, è vicina alle scuole in tutti i suoi processi che negli ultimi 30 anni hanno sconvolto particolarmente tutte le segretarie scolastiche. Il nostro scopo è fornire prodotti facili da utilizzare ma soprattutto fornire formazione alle scuole, aiutarle a gestire al meglio i loro processi informatici e i loro processi amministrativi, fornendo un supporto sia a livello normativa sia a livello di software utilizzabile e facilmente fruibile. La digitalizzazione nelle scuole ha portato ovviamente a un'evoluzione sia dei sistemi informativi a disposizione scuola sia dei prodotti che noi proponiamo alle scuole. Per fare questo avevamo bisogno di un partner affidabile. Dopo un'attenta ricerca di mercato abbiamo scelto Aruba Enterprise per il fatto che ci seguono in maniera egregia, sono aggiornati sulle tecnologie e soprattutto sono a norma su tutto quanto riguarda le attuali normative che sono veramente tante non ultime al GDPR. Questo quindi assicura ai nostri clienti che trattano tonnellate di dati sensibili essendo scuole quindi avendo la maggior parte degli alunni minorenni, ci assicura, noi assicura quindi i nostri clienti che i dati personali che vengono trattati sono al sicuro e sono blindati secondo tutte le più moderne tecnologie di blindatura degli stessi. Axios Italia ovviamente nell'evoluzione ha avuto bisogno di spostarsi sul mondo cloud che è un mondo che ha bisogno di garanzie e di certificazioni di qualità per garantire la sicurezza dei dati. In questo Aruba Enterprise ci ha garantito una serie di parametri, una serie di procedure specialmente per quanto riguarda il disaster recovery con il quale possiamo garantire ai nostri clienti di rispettare anche le più forti restrizioni dell'attuale normativa. La procedura, la migrazione a cloud, l'evoluzione procedure della scuola prevede anche ovviamente un lavoro a livello locale, quindi a livello locale è necessario automatizzare la segreteria per quanto riguarda il lavoro che scompiono tutti i giorni. La più grande esigenza che aveva è in qualche modo risolvere il problema della firma, altrimenti la carta non si sarebbe mai tolta dalla segreteria. In questo Aruba ci ha dato una mano con due tipologie di firme, una firma che è quella grafometrica dove chiunque può firmare in maniera legalmente valida un documento, ad esempio un supplente temporaneo o una qualsiasi persona che debba firmare un foglio di carta al volo, quindi firma un documento in maniera digitale ed è una firma assolutamente legalmente valida. Poi questo documento segue un processo già prestabilito tramite il programma di segreteria digitale di Axos che gira sempre su cloud di Aruba Enterprise e a questo punto Aruba ci ha fornito un'ulteriore soluzione per quanto riguarda il dirigente scolastico che è la firma digitale remota, cioè è una firma che consente di firmare i documenti in remoto e consente inoltre tutto al dirigente di firmare una serie di documenti tutti insieme, questo per evitare perdite di tempo di firmare un documento alla volta. Una delle maggiori difficoltà che abbiamo avuto è spiegare alle scuole che i programmi in cloud non sono fuori dalla scuola quindi non sono non sicuri perché le scuole erano abituate ad avere il server, il prese era abituato a spegnere il server alla serie e nessuno poteva accedere. Spiegare alle scuole che anche se i dati non sono fisicamente dentro la scuola è come se lo fossero, sono al sicuro, sono assolutamente tutelati e protetti, forse addirittura più. Questo ha avvicinato un pochino le scuole al mondo del cloud, ha avvicinato le scuole anche alla digitalizzazione dei sistemi. È un processo lento, è un processo che impegnerà a tempo perché è un processo culturale più che tecnico, perché tecnico ormai abbiamo risolto quasi tutto. Quello che è necessario fare è portare le segreterie, il personale di segreteria delle scuole a capire che l'utilizzo di questi sistemi ottimizza grandemente il loro lavoro migliorandone di molto anche la qualità.